Cari appassionati di uomini e donne, preparatevi a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate. Tra colpi di scena, nuovi amori e immancabili confronti accesi, le emozioni non mancheranno. Restate con noi per svelare tutti i retroscena e le curiosità sui protagonisti più amati del trono overe classico. Benvenuti su Super Gossip, il vostro punto di riferimento per tutto ciò che accade dietro le quinte. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, registrate il 15 novembre, la cui messa in onda è prevista a dicembre su Canale 5, rivelano che c'è stato spazio per le novità legate al percorso di Gemma Galgani, che questa volta è stata protagonista di un acceso scontro in studio con Tina. La dama torinese ha ammesso di essere stufa del trattamento che le viene riservato dall'opinionista. Tanto da essere disposta perfino a lasciare definitivamente la trasmissione e uscire di scena. Tra Tina e Gemma si è riacceso lo scontro verbale in studio. Tra le due ci sono state accese scintille. E questa volta la dama torinese è andata su tutte le furie, al punto da ammettere di voler lasciare la trasmissione. Gemma ha svelato di non riuscire più a tollerare le esternazioni che vengono fatte durante le puntate di UND dall'opinionista, aggiungendo che anche le sorelle le avrebbero consigliato di mollare la presa e andare via. Tina però non si è lasciata scoraggiare dalla dama torinese e ha proseguito ad attaccarla, sostenendo che Gemma sarebbe stata l'amante di diversi personaggi famosi. Il cavaliere, che ormai da un po' di tempo sta portando avanti la sua frequentazione con Gemma, ha scelto di andare avanti e continuare la conoscenza. In trasmissione poi era arrivato un nuovo cavaliere, interessato a conoscere meglio la dama, ma lei ha preferito non farlo scendere in studio, intenzionata ad andare avanti soltanto con Fabio, dato che tra di loro sta nascendo un feeling che sembra essere speciale. Come rivelano le anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore, infatti, Gloria è rientrata nel cast del Trono Over, dopo un'assenza di quasi due anni. La dama ha partecipato al dating show nel periodo in cui c'era anche Riccardo, con il quale ha avuto una turbolenta e breve relazione. Un paio di stagioni fa, però, Nicoletti ha deciso di lasciare il programma perché non le interessava nessuno, e il suo cuore batteva ancora per guarnieri. Visto che non era corrisposta nel suo sentimento, la donna ha abbandonato lo studio ed è rimasta a casa fino alle riprese odierne. Ilaria è tornata a Uomini e Donne, insieme a Vincenzo, con il quale ha iniziato una frequentazione, lontano dalle telecamere, da qualche settimana. Ilaria ha raccontato di aver querelato Barbara De Santi per una frase pronunciata sul suo conto qualche giorno prima. In studio c'è stata una discussione con Tina Cipollari, accusata da Ilaria di non averla difesa, quando Barbara ha fatto commenti poco carini su di lei. Nel frattempo, l'ex dama del dating ha anche raccontato che con Vincenzo sta andando tutto per il meglio. Mentre con Tina Cipollari non c'è stata possibilità di riconciliazione, Gianni Sperti, al contrario della sua collega, ha stretto la mano a Vincenzo, mettendo da parte le divergenze. Grazie per aver seguito le nostre anticipazioni su Uomini e Donne. Continuate a rimanere aggiornati con Super Gossip per non perdervi nemmeno un dettaglio sui vostri protagonisti preferiti. Vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre con nuove emozioni e colpi di scena. Alla prossima, ciao!